Ci troviamo a Taranto, precisamente in zona Lama, in via Nicola Vozza, tra le vie Mediterraneo e via Gregorio VII, nella piazzuola antistante il 24esimo circolo didattico Sant'Egidio di Tramontone. Ho al mio fianco il Cavaliere Alfredo Luigi Conti, presidente del movimento Taranto Diritto di Volare e con lui vogliamo parlare della situazione del luogo. Abbiamo degli alberi le cui radici hanno letteralmente devastato i marciapiedi, quindi c'è innanzitutto questo rischio di cadere perché le radici, lo vedete dalle immagini, sono impressionanti e come l'asfalto è stato proprio sollevato. L'argomento è di particolare attualità perché con il maltempo, con i vari smottamenti, con le trombe d'aria non sappiamo questi alberi cosa potranno produrre. E qui rischiamo una tragedia veramente perché qui parcheggiano tutte le macchine che portano i bambini a scuola. Immaginate un po' voi, raffiche di vendo, questi alberi possono, come si vuol dire, cadere giù. Inoltre la gente che deve... Non solo cadere, proprio la forza del vento molte volte li sradica, li proprio li crea una situazione incredibile. La tragedia è mancata in Viale Magna-Grecia, non dice nulla, non dice nulla. Bene, noi aspettiamo sempre che succeda qualcosa di tragico per intervenire. Questa questione relativa agli alberi che hanno sollevato il manto del marciapiede, che non c'è più un vero marciapiede per far camminare la gente, bene, questi stessi alberi possono essere buttati giù e qui passano bambini con le madri, con i genitori. Allora, attenzione, in più, questa questione riguardante a questo marciapiede sollevato già da diverso tempo e io in più occasioni, anche a lei, dottor Abbate, ho evidenziato diversi anni fa la questione di questo marciapiede. Bene, in questi ultimi anni non è stato fatto assolutamente niente per la sicurezza dei genitori e dei bambini che portano a scuola. Oltretutto bisogna vedere lo stato delle radici. Io non sono un agronomo, per carità, però nel momento in cui le radici, paradossalmente, sono superficiali, nel senso che non sono particolarmente infisse, non penetrano particolarmente nel terreno, è molto facile che un colpo di vento, un po' d'acqua, le sollevi e quindi sollevandosi queste radici, apparentemente, diciamo, superficiali, usiamo questa espressione, l'albero vola via. Vola via e può andare a finire come poter... Addosso a chi si trova nelle vicinanze. Si trova, oltre le macchine che sono comunemente, normalmente parcheggiate qui. Ripeto, è un parcheggio, un parcheggio sia per quanto riguarda la questione che portano i bambini a scuola, ma è anche un parcheggio perché qui c'è un centro riguardante la questione sanità, c'è un ASL, un distretto sanitario, dove la gente parcheggia mediamente qui per andare al centro sanitario. Allora, dico per l'ennesima volta l'amministrazione comunale di intervenire. Non arriviamo alle tragedie. Intervenite con questo marciapiede, intervenite con questi alberi perché poi sarà troppo tardi. E allora noi ci rivolgiamo all'assessore ai lavori pubblici del comune di Taranto, Motolese, ci rivolgiamo all'assessore all'ambiente alverde Vigiano perché deve essere innanzitutto monitorata la condizione degli alberi in generale in questa zona in particolare, ma anche in altre zone e poi lavori pubblici per gli interventi conseguenziali. Ma, ripeto, la situazione relativa agli alberi non va sottovalutata perché quello che è accaduto a Via Lemagna-Greccia è una visaglia terribile.